food.bz.it Hai domande su etichettatura, sviluppo di prodotto o sui partner della tua rete? Su food.bz.it trovi quasi tutto quello che deve sapere un produttore alimentare in alto adige. food.bz.it Il portale di informazioni per il settore alimentare altoatesino sempre aggiornato e disponibile ad ogni ora. Vuoi fare un check up alla tua nuova idea di prodotto? Su food.bz.it ti basta qualche click. Nelle nostre news trovi i trend di domani e le notizie legali più attuali sugli alimenti, specifiche per il tuo settore. Vuoi sapere cosa succede nel settore alimentare in alto adige? Nel nostro calendario trovi tutti gli appuntamenti più importanti. Iscriviti alla nostra newsletter. Un modo facile e automatico per essere sempre informato. Food.bz.it Il portale informativo altoatesino per il settore alimentare. Veloce. Aggiornato. Semplice. B Aggiornato. 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 Grazie a tutti.